Allora, io ho incontrato Marina durante il mio percorso scolastico all'Olivieri e devo dire che è stato breve, è stato un anno e mezzo, ma io e lei abbiamo stretto un rapporto unico appunto come dicevo prima e più che all'unno professoressa era proprio un'amicizia, era come per me Marina è stata una mamma una persona su cui contare un punto di riferimento perché io ho avuto tanti problemi familiari appunto come Claudio diceva che lei si prendeva fuori, proprio le persone un po' più deboli, un passaggio drammatico, la virgolette alle spalle e lei diciamo era la persona che io quando andavo a scuola volevo vedere, non vedevo l'ora che arrivava la sua lezione per parlare con lei non vedevo l'ora di vederla, di parlare, di abbracciarla, di stare insieme, di ridere, che poi ridevamo tantissimo insieme per me Marina è veramente una persona che non dimenticherò mai perché è stata veramente un punto di riferimento una mamma, una persona su cui contare sempre, 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 io mi ricordo che avevo problemi a casa come ho detto prima e lei mi diceva non ti preoccupare, dovremo una soluzione se vuoi venire da me, addirittura lei aveva proposto di andare a casa sua era veramente un'esplosione, cioè una donna, era un'esplosione di energia ma una donna così sensibile allo stesso tempo e così, come posso dire, una donna aperta poi, veramente difendeva, mi ricordo che quel periodo io ero fidanzato con un altro ragazzo e lei difendeva quest'amore, ci difendeva tanto, era proprio, si batteva per ogni lotta, lei voleva il bene delle persone il bene della gente, lottava per l'amore, lottava per stare bene e per me vedere che nella vita non c'è più questa gente ma soprattutto non avrò più lei per me è veramente straziante abbiamo parlato appunto, abbiamo parlato spesso, avevo promesso che quando tornavo in Italia ci saremmo dovuti abbracciare e il pensiero che io non posso dare più con l'abbraccio e sentire tutto l'amore che c'era da me lei è struggente, è veramente struggente ho ripromesso che lo darò a Claudia però, glielo ho promesso e una grande donna, l'esempio di donna è di una donna che ha lottato tanto e che amava, amavo vedere i suoi occhi che amavano i suoi figli come parlava dei suoi figli mi riempiva il cuore e ogni volta avrei voluto una mamma così adesso è un bellissimo ricordo ma sarà una persona sulla quale io conterò tanto quando guarderò il cielo grazie a tutti Grazie a tutti.